Mi fa molto piacere che il dottor Primello abbia accettato il nostro invito, mi spiace purtroppo che sia capitato il mondo del genere, come accettato a molte persone abbiamo dovuto dire di no, per fortuna comunque il secondo tentativo siamo riusciti, perché il primo di maggio l'abbiamo potuto rinviare, quindi penso che stasera sarà una bella occasione in formazione, faccio solo 5 minuti di introduzione generale su alcuni aspetti dell'educazione sessuale. Parto da un mio vecchio ricordo personale degli anni 80, quando ero giovane come psicologo e la mia prima esperienza in una scuola è stata con un psicologo che alziano eravamo in un istituto professionale di soli maschi, io ero piuttosto agitato, prima lei mi diceva mi sta tranquillo, i primi due che fanno casino mi sbatto fuori e vedrai che le cose vanno benissimo, io ero ricosservato ed effettivamente è andata così, è andata così nel senso che poi lui la lezione l'ha fatta benissimo, io ho parecchi dubbi che sia stato un momento educativo, perché secondo me non è passato assolutamente niente, però tante volte ci poniamo come educatori, ci poniamo semplicemente come redatori, io credo che certe occasioni quel momento lì non siano state colte. Per fortuna negli stessi anni qualcun altro, qua invece faccio il nome, ovviamente il professor Giorgio Riffelli, scriveva qualcos'altro sui temi dell'educazione sessuale, vi leggo solo queste righe. Nelle modalità di attuazione dell'educazione sessuale, le tecniche di insegnamento utilizzate sono quasi sempre passivizzanti. La pedagogia teorizza una informazione e una formazione o educazione sessuale, assegnando la prima l'insieme delle condizioni e anche la seconda l'insieme delle norme. In realtà il gesto educativo mai sopporta tali separazioni e qualsiasi messaggio nel portare conoscenza forma atteggiamenti e mentalità. D'alternativa a questa soluzione pedagogica la vogliamo chiamare educazione alla sessualità. Essere condutivi ad un atteggiamento educativo consapevole secondo il quale la sessualità è una possibilità dell'essere umano, la cui realizzazione non si muove verso una mente predefinita, ma richiede la libera e responsabile partecipazione di ciascuno per una costruzione che risulterà specifica per ogni persona. Non ci si muove quindi da verità precostituite o da modelli prefissati, ma dalla considerazione delle potenzialità da sviluppare. L'educazione della sessualità intende quindi fornire strumenti per la realizzazione di sé e non modelli. E come sembrano dei concetti importantissimi. Mi aggancio solo a una delle ultime parole, l'idea degli strumenti, perché può essere anche questa detta in vari modi. Quando secondo me il professore crede di parlare agli strumenti intendeva di sviluppare nei ragazzi e negli adulti la capacità in prospettiva, la capacità di chiedere aiuto, di sapersi confrontare veramente con l'altro e con l'adulto in modo particolare, che sia l'educatore, che sia il genitore, che sia l'insegnante. Bisogna vedere se inoltre primi come adulti siamo in grado di gestire le cose. E qua arriviamo a come si costruisce la sessualità del maschile. E allora quali maschi? Ce ne sono pochi, per cui farò qualche esempio anche concreto. Le battute, gli scherzi, le prese in giro, la pornografia di solito sono le radici della costruzione del maschile, poi il bocciore più bello confermerà o meno. C'è un reale confronto con gli altri o tutto passa attraverso questi canali? Io non dico tutto, però molto passa in questo modo. Vi faccio un piccolo esempio personale che ricordo di aver vissuto l'esempio di 15 anni e che lo risento ancora quando vado a parlare nelle scuole, però la classica situazione arriva lì e ragazzina, ci sono gli amici e tu che sei un esperto è più importante averlo lungo, averlo grosso o saperci fare? E tutti chiaramente saperci fare e tutti arrivano in coro, ah ah ecco l'altro invece la piccola. Ecco questo è un esempio molto sciocco ma molto concreto di come nel maschile si costruiscono certi concetti. Per cui poi sul pene non c'è più solo una questione di misure, ma c'è una questione di direvità. Tanti problemi che poi si manifestano più avanti, di operazione precoce, di disfunzione erettile, in più delle volte non c'entrano assolutamente niente con l'organo, ma c'entrano con queste insicurezze. Mentre nelle femminile molto più spesso c'è un reale confronto rispetto alle proprie paure, i maschi fanno un'estrema fatica. Per cui quando a volte in classe vengono fuori le battute, secondo me sono proprio degli strumenti, sono delle occasioni in cui l'adulto invece che buttare fuori il ragazzo che ha fatto la battuta può creare un ponte di sanedazione, un ponte partendo proprio da quello che corrono detto in quel momento. I paradossi che io ho notato ultimamente, i ragazzi d'oggi magari sanno tutto sul Viagra o su tanti altri farmaci e non parlano magari più o meno dei brufoli, cioè di qualcosa che parte veramente da loro con tutte le insicurezze che crea rispetto alla propria immagine corporea. Questo per dire che si è sempre più attenti all'esterno invece che all'interno. Ecco, credo che un aspetto molto importante dell'educatore, una funzione, debba essere di riportarli su di loro. Non si è sicuri nella misura in cui ho certe conoscenze, ma nella misura in cui mi accetto come persona, nei miei cambiamenti. Perché ripeto, i fantasmi interni spesso, come dire, condizionano che ho presente alcune situazioni di terapia, dove la persona ricorda, sa, quando avevo 15-16 anni e ho avuto lo spirito uberale tardivo, io assolutamente non avevo pedi, pensavo di essere impotente. Come se i pedi fossero direttamente collegati agli spermatozoie. oppure il ragazzo che dice, sa, la mia prima evoluzione, mi sono alzato carico da moscia, sono andato nella stanza dei miei genitori, l'ho raccontato e mio padre in due parole che mi dice, dai dai, vado a dire che è tutto a posto. Forse quel papà lì in quel momento non ha capito che il bisogno era un anno della ragazza, ma che è vero che è tutto a posto in quel momento, però forse le parole da usare sarebbero state un po' diverse. E per cui ecco, io ringrazio il dottor Pibello, il dottor Pibello, che ci darà questa sera l'occasione di approfondire queste tematiche. Il dottor Pibello adesso è un mani tra l'anni, nello specifico della sua presentazione, perché ha un sacco di titoli. Anorologo e endocrinologo, da anni collabora nella formazione, io l'ho conosciuto ancora trent'anni fa, presso il CIS di Bologna, qui apparteniamo entrambi, e io come divulgatore penso che sia una persona bravissima, per cui speriamo che questa sera ci dia una mano sugli aspetti dell'adolescenza. Sono stato molto colpito dalle rivoluzioni di Marco perché tocca alcuni aspetti maschini rilevanti. Io ho portato del materiale, ma vorrei vedere con voi se questo può essere qualcosa che vi sta bene, o se volete che andiamo a braccio, o se volete che dalle mie centinaia di presentazioni scegliamo alcune altre cose che vi interessano. Sostanzialmente questo che vi volevo portarvi è l'esperienza che quando io ho fatto un percorso di licenziale nella società che ha l'anni-andrologia, ho fatto il tesoriere, il segretario, così. che è la società che raggruppa gli andrologi di formazione medica, per i quali, come il CIS raccontavo, l'anno scorso abbiamo fatto una formazione sessologica, per esempio, con due residenziali. quantomeno perché il medico, anche se la medicina oso va in tutta altra direzione, spaccando nuovamente un'unità che sembrava raggiunta con la clinica che aveva pochi mezzi diagnostici ma molta attenzione all'anarmese del paziente, oggi la pletora di mezzi diagnostici ha spostato completamente il paziente, perché se uno ha la tosse, fa dall'asta del torace, al fine è un spuntato del medico, tendenzialmente. Che negli viene chiesto e segnalato di traverso del cibo, per esempio. E la stessa cosa un po' viaggia nel nostro mondo di sessore. Questo che vedete è qualche cosa che era stato preparato e che io ho fatto per dieci anni con USRL nelle classi di moltissimi istituti. Facevo una situazione che avevamo visto più di 6.000 ragazzi nel mondo. Io ho guardato a più di 6.000 ragazzi in formazione. Poi sono finiti i conti e ovviamente nessuno ha potuto sostenere questo aspetto. Rimane l'educazione all'affettività. Però portavamo, e vedete che c'è appunto la simbologia della società italiana e analogia, portavamo questi dati. Io eravamo in classe e dicevo ai ragazzi, oggi parliamo di maschi. Perché parliamo di maschi? Perché le ragazze hanno una grande fortuna. Sono seguite dalla mamma. E qualche volta c'erano delle ragazze, nelle classi anche negli istituti più maschili, con marconi e tipo. E dico, ciascuno di voi, quando ha avuto delle prime mestruazioni, quando ha avuto bisogno dei primi rapporti, insomma il ginecologo l'ha conosciuto in temi abbastanza rapido. Bene, oggi il maschio, esentato dalla visita di Eva, che faceva 18 anni, nella quale, ricordiamoci che per il maschio c'era l'imprimatur della virilità. Tu andavi a fare la visita di Eva, ti riconoscevano lo status di maschio in grado di combattere, sviluppato. Per la medicina, in realtà, era una miniera di informazioni sullo stato di salute di questi ragazzi. Ibico preso dal sviluppo genitale. Perché nella visita di Eva veniva controllato la parte mentale. E una patologia frequente, circa nel 20%, 25% dei maschi, quali la vena varicosa del testicolo, che comporta problemi nel 50% di questi soggetti di valio grado di infertilità. Ok? Perché la vena varicosa scalda il testicolo che è stato messo all'esterno per restare a una temperatura diversa per poter fare la spermatogenesi. E parliamo di persone che cercavano figli tra i 20 e i 30 anni di età. Oggi il barico c'era si sviluppa sempre nel tato adolescenziale. Ma i figli di certi tra i 40-50% e quindi il danno che viene perpetrato sul testicolo è molto più ampio. Quindi dicevo guardate che nessuno dice al maschio quali sono i problemi. o come è fatto. E' vero, oggi avete accesso all'internet. Ma cosa andate a vedere subito? E che cosa vi appare nel motore di ricerca? Dobbiamo consegnarvi le parole chiave. E dobbiamo togliere dei preconcetti. Preconcetti che appunto si formano in particolare oggi. Una volta si formavano della nostra ignoranza. Però fra maschi c'era molto più ci si mostrava il pene, ci si masturbava in gruppo per vedere alcune cose. Cioè esistevano dei passaggi nei quali comunque si prendeva coscienza di alcune cose. Oggigiorno tutto questo accelerare di esperienze porta a ragazzi di 13, 14, 15 anni ad avere rapporti completi in assenza di una formazione. sarebbe come se qualcuno pretendesse di farli parlare a un congresso con parole in grado di trasmettere dei concetti senza perli formare. Bene, questo era un po' il percorso che io facevo con i ragazzi a scuola. Parlavamo di come sono fatti i maschi. Parlavamo di quali possono essere i problemi anatomici della loro formazione. Parlavamo di come funzionavano, no? Perché l'erezione? Perché l'eiaculazione? Come? Da dove avviene? E quali sono i problemi di funzionamento? Sempre dal punto di vista medico. Se non c'era già stato il ginecologo buttavamo qualche cosa sull'aspetto femminile per chi avessero un'idea banimente della lunghezza della vagina. Parlavamo dello stile di vita considerando che oggi i ragazzi bevono, usano droghe, moltissimi hanno delle alimentazioni sbagliate, completamente sbagliate, tutto questo poi ricade sia sulla ricorruzione sia sulla sessualità. Poi ovviamente affrontavamo un concetto delle malattie sessualmente trasmissibili della contraccezione, con un aspetto anche maschile, e alcuni aspetti legislativi, no? Cioè per esempio qual è l'età in cui il consenso è valido, non è valido per la donna e per il maschio. E questo è quello. E questa è la propria. Nell'angolo da queste cose vedere alcuni di questi passaggi. Se invece vi sembra che la parte di conoscenza fisiologica e anatomica del mondo maschile sia già per voi estremamente compatta e sedimentata, possiamo passare a qualcos'altro, per esempio diagnostica e terapia, che cosa ci chiedono i ragazzi, o, ancora meglio, forse, possiamo di volta in volta, se ciascuna di voi ha alcune domande, che adesso vado a fare ancora una piccola introduzione, ma nell'esperienza, poi possiamo andare ad attingere queste ad altre diapositive, ma se qualcuna si è trovata nell'esperienza personale o all'interno di un dialogo di classe con domande e situazioni a cui non ha saputo o non si è sentita sufficiente, o ha la sensazione di aver potuto darne più un bel momento, partiamo da lì e di volta in volta con le vostre esperienze costruiamo la giornata di oggi. Quindi, secondo me sono aspetti differenti, io non riconosco, quindi non so chi di voi abbia in quale formazione, quindi dobbiamo decidere un po' insieme che cosa vogliamo fare. Prima Marco accennava al concetto di virilità maschile, e io ritorno su alcuni aspetti anche al femminile. perché, e vi parlo al femminile, perché inconsciamente, e anche questo concetto, io non ho molto inconsciente di psicologia, ma inconsciamente anche la donna ha degli stereotipi sul maschile. credetemi, quando io lavoro per terapie mediche su situazioni ampiamente mediche, che sempre comportano un addendum alla parte psicologica, perché è logico, ma una delle cose che dico al maschio che viene da solo, e di cui mi rendo conto dalla storia che mi ha raccontato, che esiste un buon tessuto relazionale, dico sempre, mi faccia questi esami, questi accertamenti, di cui ho bisogno per capire se la sua radice prevalente di questo albero, che poi, visto da lontano, esprime sempre lo stesso fogliame, ogni albero ha una chioma di foglie, no? A me interessa capire però quale radice adatto origine a questo fogliame. è più una radice a prevalenza psicologica, emozionale, emotiva, o è più una radice a componente organica, su cui sempre si innesta poi la componente psicologica. E allora come gli esami devono essere fatti? Quando il paziente mi porta agli esami, dico sempre se lei ritiene con qualcuno, perché è lei il mio referente, questa cosa è stata dibattuta, per esempio, in ambito andrologico da vita. Sono arrivati quelli che hanno detto no, sempre in coppia si deve visitare il disturbo si scorda. Ma perché? Io sono in risposta alla persona mia. Non posso dire alla persona che non ti seguo se non torni con il tuo padre. Ma vedete che anche da parte medica ci sono le cose difficili. però se lui ritiene utile e se il partner accetta, per me è fondamentale la presenza di entrambi, perché spiego sempre al paziente, lei porta un disturbo, ma la malattia che sta all'interno della coppia è non fate pure il senso. Quindi è questo il disturbo. C'è una sessualità che si è fermata, c'è una sessualità che non decolla. e quando arriva la signora, io spiego sempre, prima di cominciare, come funziona l'aschio. E vi assicuro che 95% delle donne non sanno come funzionano. Il preconcetto qual è? Che basta che io sia disponibile e lui deve avere una relazione. E abbiamo uno strumento, ma fin da piccolo rimane. Perché devo tenere le gambe sempre chiuse? Perché il maschio dice, un attimo, e si scatena quella parte maschile che non ha nessun controllo. e il maschio interiorizza questo dentro di lui. Cioè, il bene deve essere sempre colto. Non importa se mi piaci, se sei bella, se sei dolore. Se sei disponibile, bene, ti devo fare. E all'archetipo, di fondo, si giunge con il concetto che ciò che identificava il maschio, no da mille anni fa, ma da dieci mila anni fa, da quindici mila anni fa, era avere le relazioni. Sono maschio perché ho le relazioni. Vi ricordo che non era importante dove il bene eretto venisse inserito. I soldati che venivano vinti spesso erano sodomizzati dai vincitori. Nell'antica Grecia sapete perfettamente che la sodomia era pratica comune. Quindi, non era dove lo vedevo il bene, non sono virile perché ho tante donne, sono virile perché ho le relazioni. Questo configura la mia immagine di virilità. Archetipa. E cosa configura l'immagine di femminilità? Moltissime donne dicono essere madri. Non è quello, perché per essere madri devi avere avuto un rapporto sessuale. e quindi, come le riti della fecondità dei tempi di Ishtar, è far avere una relazione. Io sono donna perché di fronte a me il bene si risulta. Ecco perché la donna della persona che ha una disfunzione erettiva vive delle grosse difficoltà. E la primissima cosa che dice sempre non ti piace più. Oppure c'hai madri. Va in crisi anche l'identità femminile perché è così. L'erezione va a riverberare al maschile e al femminile. Questo per parlare delle erezioni. Ed è per questo che in realtà la donna affronta l'erezione ancora con un misto di attenzione, preoccupazione e disponibilità di solito, parliamo in generale, per il partner che presenta tale problematica. Cosa che non accade per esempio con l'eiaculazione precoce. Perché l'eiaculazione precoce è vissuta dalla donna come l'egoismo del maschero che va dal suo piacere. Infatti la donna è tremendamente arrabbiata con il maschio che ha disfunzione precoce. Non lo è con il maschio che ha disfunzioni delle erezioni. Perlomeno in primo periodo di tempo. Lo è se il maschio non va a fare nulla per affrontare problemi. Mentre sull'eiaculazione precoce le condizioni del vissuto emotivo delle persone di sesso femminile sono sempre verso la rabbia. Questo era per riprendere un po' quel concetto che dicevamo. E oggi il maschio, se noi lo facevamo fra maschietti, oggi il maschio lo fa comportandosi con cosa? Con la comodità. Io ho un sacco di... un sacco, veramente un sacco. Perché devo dire che ormai i miei interventi viaggiano intorno al 25% con maschi di meno di 30 anni. laddove lo calco. È davvero una rarità incredibile. E il disturbo più frequente, sapete qual è? Non ho più come. Non ho più desiderio. Di fronte a questi maschi ho comunque sempre una domanda. Quante ore passi sul computer a passare i canali più buoni? No, sì, eh. E il 90% hanno l'unica calcolizzazione fin da ragazzi di questi canali. Perché è il loro modo di vedere. Qui abbiamo dei capelli bianchi che erano i maschi e non è un segreto se noi avevamo... Ma non le fotografie, signora. Era una cosa inarrivabile la fotografia di Playboy o di cronache italiane o di qualcosa. avevamo i cartagli di postal marketing con la lingerie per avere un'idea della donna. Avevamo i fumetti disegnati perché quelli sì, Isabella, Messalina, quanto altro, dove era solo il tratto di disegno che si animava nella nostra... Quindi da lì prendevamo le idee. Oppure qualcuno che raccontava con i modi che si poteva della sorella che era stata vista in bagno, no? E diceva, no, ma è fatta così, è fatta cosà, eccetera, eccetera. Oggi giorno tutto questo invece passa per una visione diretta che i nostri ragazzi credono diretti. Io ho fatto fare tre tesi andando nei set dei film cronocatici. Per cui espino sempre ai ragazzi che non sono protetti da un filtro che invece accade in tutti i film d'azione. Con questo esempio, se voi andate a vedere un film di azione tipo 007, c'è una scena girata in cui il moto, qui al cuore, un uuuuuh, velocissimo per scansare, in un certo momento esce un camion e io punto per terra la moto, ci passo sotto ed esco dall'altra parte fin bene. Voi dico, se avete la moto lo fareste? No, perché? Beh, diciamo che c'è un trucco, c'è un trucco, nessuno di noi lo farebbe. Però nel momento dell'azione ci piace, ci rende il colpo. E perché non credete che il film pornografico non abbia gli stessi dubbi? Ma perché viene preso davvero? No. Il film pornografico ha esattamente gli stessi sistemi di trucco. Scene girate per mezzo minuto e poi rinchiarate. Uso di sistemi a pixel per aumentare le dimensioni, per cancellare gli inestetismi. Doppiaggi di rumori, suoni e quant'altro. E' chiaro che se il loro materiale di confronto è questo, la gran parte sarà inadeguata. Si sentirà inadeguata. O sarà inadeguata al padre. Com'è che non salti sugli specchi e non ulubi alla luna ogni volta che facciamo sesso? Com'è che non ti metti quella posizione strana che... Tutto qui. Tutto qui. Così. Banale. Ah, ma poi. Casi dubbi. Questo è una delle situazioni dei nostri giorni. Stessa cosa riguarda la dimensione dei genitali. Se il confronto è sui genitali che vediamo nei film pornografici, evidentemente, soprattutto per come sono inquadrati, e ripeto, con la manomissione attraverso i pixel che riescono a dilatare e ingrandire determinate situazioni, e con la non conoscenza del sistema, per esempio, elastico dei corpi cavernosi. Ci sono dei ragazzi che hanno molta elasticità nei corpi cavernosi, fibre elastiche, e quindi pene a riposo che si accorcia molto. Quindi anche i nostri ragazzi che fanno dell'attività fisica, e magari si vedono in dolce quant'altro, hanno la possibilità di vedersi con altri ragazzi, non solo, aperta parentesi, a 14, 12, 16, 17 anni, in cui gli sviluppi sono molto disparati. In una squadra di 11 giocatori di calcio, dai 14 ai 16 anni, c'è quello di 16 anni che ha già finito lo sviluppo, ma c'è quello di 14 che si deve far cominciare. Ma nessuno ne prende coscienza. Primo discorso. Il fatto che io posso avere un bene a molte fibre elastiche, quindi quando è a riposo si accorcia molto, quando va in erezione ti seguo. Ma se io prendo me stesso come parametro di giudizio, cosa penso del mio amico a sfrugare che a riposo ce l'ha come me in erezione? Penso quando andrà in erezione. Invece il mio amico a sfrugare e ha poche fibre elastiche. Il risultato quando va in erezione è lungo come quando ce l'ha a riposo. Quindi banalità quelle e queste, io ho spiegato nel fatto che il pene si misura in erezione. E la lunghezza media del pene? Le domande che i ragazzi provocatoriamente venivano postate. Da lì viene poi la domanda, ma quanto profonda la pagina? Voi. Tutte queste cose svelano un po' insicurezze e situazioni. Tempistica dell'eaculazione precoce. Raccontavo a Marco che, non più tardi di 4 anni fa, ebbi un corso di formazione con così, più o meno qualche decina di persone in più, tutte donne ha trovato due solo maschi. Deve essere io e chiesi, per esempio, secondo voi, qual è il tempo che giudicate normale dall'introduzione del pene allogato maschile? E quindi alcune risposte non in linea con la scienza. Nel senso che, ebbi risposte da prima che parlo, mi sedete giuditi. E' giù di lì più o meno, no? Qua cosa c'è? Con il picco picco di situazione intorno ai 6 minuti. Per la grand barbina. Ok? Quindi ci sono anche, ripeto, delle cose che il mondo femminile a volte ignora, non ha presente. bene. Consideriamo anche la differenza strutturale del desiderio maschile e femminile. Se noi maschi abbiamo il problema del 13%, 14% di disfunzioni dell'elezione nella fascia dell'attività sessuale a 18-70 anni, che poi vanno fino a 90, però non abbiamo la possibilità. Diciamo, gli studi epidemiologici fatti sono 18-78 anni. L'incidenza è intorno al 14%, con un andamento ovviamente chitto verso i 18-20 anni quando inizi, poi la situazione si normalizza e poi ovviamente con l'arrivare delle matologie croniche che hanno un'incidenza e una ricaduta violenta sull'elezione. Addirittura l'elezione spesso espia di malattia cardiovascolare, espia di diabete, cioè il primo segnale di una patologia importante a livello fisico delle persone. Quindi, mano a mano che passa il tempo, i farmaci che poi bisogna assumere per contrastare ipertensione, colesterolo e quant'altro, vedi che con l'andare del tempo nel maschio ovviamente e i 78 anni hanno un'incidenza pari al 60% di difficoltà dell'arrivazione. Sulla stessa lunghezza d'onda ci posizioniamo con l'eaculazione precoce, che è più alta un'incidenza, cioè il disturbo più frequente dell'arrivazione. L'eaculazione precoce ha un'incidenza intorno al 22-25% globalmente presa, quindi parliamo di eaculazione precoce primitiva, da sempre, primitiva intendiamo un'eaculazione che sempre non viene controllata in tutte le situazioni, con ogni partner, fin dai primi rapporti sessuali. La secondaria invece è una difficoltà a avere il controllo dell'eaculazione e una tempistica di orgasmo in un certo momento della propria vita, o con una certa partner, un certo partner, vorrei parlare. Io uso sempre la parola parco, di chi ci salva, senza entrare in dettagli. Quindi le situazioni sono intorno al 25%, quindi è importante che un maschio su quattro ha delle difficoltà, mentre l'eaculazione impossibile barra dolorosa, è un evento raro, l'1-2% dei disturbi della sessualità, anche se presente però. Al punto femminile, sempre in quella fascia di età, da 18-60 anni, il disturbo più frequente è quello delle eccitazioni. 33% delle donne fanno fatica ad eccitarsi e 27% delle donne fanno fatica a raggiungere l'orchestra. Qual è la discrepanza che rende la donna più sicura della sessualità e non della sua soddisfazione sessuale, che sono due cose differenti? Attenzione. L'aspetto genitale a cui potete controllare la parte genitale. noi ci mettiamo qua e, volendo, infila tutti i primi maschi che passano per la strada, una può fare lavoro con tutti. Perché anatomicamente vi è consentito il controllo della genitalità. non quello dell'orgasmo, ma della formazione maschile. zero. Capite che fragilità strutturale è un maschio che nasconde dietro tutti questi gesti lo ha, per ma sono una strada di autorassicurazione inconsciente. Perché il maschio sa perfettamente che non ha nessuna garanzia. Con la donna più bella del mondo, non parliamo se poi è più innamorata che mai, quella che ha più di tutti, di funzionare bene. Non ce l'ha. Se poi arriva qualche pensiero inclusivo, all'improvviso, funzionerò, sarò all'altezza delle sue aspettative. del maschio. Beh, queste sono le problematiche del maschio. Orgasmo? Benissimo. Le donne che fingono di orgasmo è meraviglioso. C'era una scena del film famosa, della quale nella tavola calda è bellissima quella scena. Quella ti dà l'esatta idea di ciò che un maschio non potrà mai fare. E basta vedere. Dov'è? Com'è? Sì, è capitato, vediamo a volte certe situazioni di infertilità in cui l'esame seminale, per esempio, mostra una buona quantità seminale. Figli non ne arrivano, i rapporti avvengono. Io su queste cose sono un po' perpresso, chiamo un collega ginecologo e chiedo di fare qualcosa che oggi i ginecologi non fanno più perché non fanno più parte del tracciato. Gli chiedo di fare un test postulitale che raccoglie in fondo alla vagina dopo un rapporto, un capione, per vedere se i espermato doi si muovono, sono vivi, sono mortati. Non ce n'è neanche uno. Oh! Un mistero. Ho un esame seminale perfetto, un test postulitale senza lo sformato d'oro. Allora prende il maschio e dice non esistere. Perché lei non riesce a fare la vagina? E viene fuori che il maschio non riesce a riaculare la vagina. Fa finta. In questo caso la donna è un po' forse meno attenta o forse è abbondante di purificazione. Però questi sono i dati che ci troviamo spesso a pensare. Quindi il maschio fa fatica comunque generalmente a nascondere. Questo gli crea un'insicurezza. tutto agli esibizionalmente. Non avete mai fatto caso che l'esibizionista maschio nella stragrande ragionanza di casi? Non è mai una femmina che va in giro a dire guarda che bella che sono. E' sempre il maschio. Queste sono le sicurezze da cui parte in giro. Perché se tu ti spaventi di fronte al mio pene, vuol dire che il mio pene fa paura. Se tu ti fermi e mi guardi, sì. Insomma, questo chiude il botino e va. Perché non ha ottenuto il suo scopo, la rassicurazione, sulla bestia che ha la disposizione. Questo per dire un po' la situazione. Certo, c'è la spiegazione. Noi maschi viviamo imbevuti nel testosterone. Come voi vedete imbevuti nell'estrogeno, che è il problema del tumulo del seno. Per avere il seno sempre dirichiamo che nessun animale mammifero ha. Perché la donna, la femmina, quando finisce l'adattazione, svuota le mammelle. Solo la femmina della specie uomo mantiene la mammella, pagando un prezzo altissimo. Noi invece abbiamo il testosterone. Allora, una spiegazione tendenzialmente è che la vostra sessualità comunque deriva da quanto testosterone avete. Perché sapete perfettamente che nell'estrogeno non è il progesterone. Infatti, se volete la fibra, che importa l'estrogeno e il progesterone, più la stragrande maggioranza delle donne, cae il desiderio sessuale. Perché? Perché l'ovaio comincia a lavorare lì, no? E quel po' di testosterone che produce, che è essenziale al desiderio e all'attività sessuale. Quindi, diciamo, la spiegazione, se l'uomo parte da qui tutti i giorni, io giro per la strada, mi casca l'occhio la ragazza, mi casca l'occhio come cammina quella, mi casca l'occhio come fatta quest'altra, c'è la fotografia della pubblicità. C'è sempre un elaborato a sfondo sessuale nel cervello maschino, ok? Che non vuol dire un qualche cosa che ha a che vedere con una ossessione sessuale. Ma c'è una situazione di fondo che è molto sessualizzata, perché ha tanto testosterone. Quindi il maschio parte da qui, e per arrivarsi poi a visitazione deve arrivare qui, ma il passaggio è breve. La donna, che non ha tutto il testosterone da qui, per arrivare qui deve fare un percorso. Ecco perché i famosi preliminari non sono nient'altro che la tempistica che la donna ha per formare questo campo, per portarsi a livello di ciò che è già il maschio. Quindi queste sono tutte situazioni che faranno anche spiegate al maschio, che ritiene essere solo dalla sua capacità performante nella risposta della donna. No, bisogna di tempi diversi. Però è molto fortunata perché può tranquillamente vivere la sua sessualità senza ansie visibili. Puoi avere tutte le ansie persone del mondo e tutti i vissuti negativi e pensiamo a tutto ciò che è dall'abuso e quant'altro. Ma, ripeto, non ha ciò che invece sul maschio è violentemente presente. un'insicurezza della capacità di affrontare un assessore. Detto questo, il maschio ha anche una profondissima ignoranza della sua anatomia. Quindi ci troviamo spesso di fronte a maschi che vengono, confondendo l'eiaculazione precoce, per esempio, con la secrezione lubrificante delle diagnosi oletrali. Non è frequente nel maschio, però circa il 30% dei maschi in fase di eccitazione, emettono del liquido trasparente, come la saliva, che non è sperma, e serve esattamente a lubrificare la parte del chilano. Ok? A volte questa secrezione è così abbondante dà a macchiare il slip. Qualche volta, indica il zone all'esterno a cui lo dà molto fastidio al maschio. Però i maschi arrivano, si siedono e dicono, dottore, sono venuto perché ho un problema dell'eiaculazione precoce, però escono già con la diagnosi estrapolata attraverso l'interno. E non essere estremamente attenti a rialzerare ciò che il paziente dice, e al ripartire da te. Perché dobbiamo comprendere che cosa intende lui per eiaculazione precoce. Che è poi una di quelle problematiche che a volte a scuola raccontiamo quando diciamo che il preservativo è messo sempre prima del rapporto. Anche se poi l'eiaculazione ti sembra di controllare. Per esempio, perché se c'è stata un'eiaculazione recente, vicina, tu puoi avere comunque nel liquido eccitatorio con gli spermatozoi riportati fuori dell'uretta. È difficile che partano la gravidanza. Ma teniamo conto che la fertilità di una donna di 15-16 anni è 10 volte la fertilità di una donna di 30 anni. Quindi è plausibile anche che pochi spermatozoi possano rapidamente arrivare avversari. E quindi ci sono agganci per spiegare ai nostri ragazzi alcune cose che sennò loro non comprendono, non capiscono. Non capiscono perché se io non eiaculo devo mettere preservativo come anticoncezionale. Ma perché se tu non eiaculi ma hai per esempio l'emissione di liquido e hai avuto un'eiaculazione un'ora prima, chi ci dice che non è scafo comunque insieme a questo liquido lubrificante dei residui della precedente eiaculazione? E allora riescono a creare questa tipologia di esperto. Altre cose che possono essere interessanti sono la pericace e persistenza della patologia della masturbatica. Parenthesi. Quando io andavo a fare questa lezione nelle classi chiedevo sempre alle persone che toglie la parte dei psicologhi di domenze e che facevano la parte sull'affettività di chiedere e raccogliere le domande a cui avrebbero voluto avere una risposta nel mio esserimento. Io ho qualcosa come 4.000 domande raccolte. Ma sono raccolte in pochi scatoloni, se siete. Perché le domande sono sempre le stesse. Tendenzialmente sono sempre le stesse. Una delle domande che torna con una grandissima forza è perché la masturbatica fa male. Vedete allora che cos'è un archetico? Non lo togli col fatto che siamo nel XX secolo. Non lo togli col fatto che c'è internet. lo togli solo con la rassicurazione di un esperto. Chi ti dice? Guarda che la masturbatica è un percorso per la conoscenza del tuo corpo e del modo che ha il tuo corpo di rispondere a certi stili. D'altra parte la medicina ha tutta la sua parte di colpi perché nella storia della disfunzione della reazione nell'Ottocento, nel 1800, una delle cause portate in campo era la masturbatica. e sapete che erano stati fatti dei sistemi contenitivi con la masturbatica che somigliavano molto alle citture di questa età. Venivano inseriti dei cinghi di cuoio con delle punte di ferro. Le cose veramente terrificanti per cercare di arginare la masturbatica. quindi anche la medicina ha certamente moltissimi, moltissime colpi in posta. Allora la masturbatica rimane in qualche cosa. Un'altra area su cui vertono le domande dei ragazzi è quella proprio tipicamente anatomica. Allora, potremmo dire qualcosa di anatomico, quindi si rompe sempre, perde la virginità all'uomo. C'è qualcosa di equivalente al concetto della perdita di virginità al femminile, no? Questo sangue che esce e quindi questo concetto che anche l'uomo perde la virginità in forma anatomica, no? Il famoso filetto che si rompe o queste fantasie in questa situazione. Torna spesso questo. Un'altra cosa che il maschio chiede sovente è quando la donna è più disposta al rapporto? O c'è qualche cosa che io posso fare per invogliare la mia ragazza al rapporto? Già c'è questa sensazione di parlare di un mondo diverso. Poi ci sono quelli che entrano nelle situazioni cos'è lo squirting, cos'è perché il sesso anale può far male, entrano in alcune domande a volte volutamente provocatorie in una classe, no? Uno riesce, eh? Il sesso anale. Lo squirting, com'è lo squirting? Ci sono, ci sono provocazioni. Ma una volta di solito in questi casi, se è uscita da una singola persona, vi dico sempre, la persona che ha preparato questa domanda non le saltavo mai. Soprattutto con queste. Il ragazzo che ha fatto questa domanda, se vuole poi, ho finito delle due ore, mi fermo qui e chiunque abbia da chiedere, ma in particolare le persone che hanno fatto queste domande hanno bisogno di avere una risposta, vengono qui da me e ne parlano in separata serie in maniera che io possa spiegare perché è una domanda singola che io non voglio tranasciare ma non è di interesse comune. Così come le domande sul transessualismo, le domande sul transgender, cominciano ad essere frequenti. Gli ultimi due anni, io sono due anni ma faccio tutto questo percorso. Gli ultimi due anni cominciano ad essere frequenti. Per quale motivo? Perché stiamo assistendo nella identità maschile, in particolare, ma comunque anche in quella femminile. ha un concetto, io mi occupo più di quella maschile, ha un concetto di liquidità del genere, traslazione del genere, marea. si, si, sono un uomo, ma... ma forse mi piace il nome... c'è cominciato un momento in cui questa generazione di 14, 17 anni non hanno più ben chiaro un'identità. che è completamente diverso dal processo trans-gender, da dove il concetto io ho molto chiaro la mia identità. Sono un uomo, un maschio, vestito da donne, vestito con un corpo di femmina, sono una femmina vestita con un corpo di uomo. Io oggi mi sto seguendo una cinquantina di queste persone, che alcune hanno fatto anche i vari stati di intervento, altre si sono fermate senza toccare i genitali, ma hanno fatto la femminilizzazione, la maschilizzazione. ho sempre seguito solo ed esclusivamente persone che avessero fatto un percorso di assoluta e profondissima valutazione con il mondo psicologico, psicoterapeutico. devo dirvi che di questi pazienti l'80% è felice come una Pasqua nel nuovo sesso, che sentivano dire. e quasi tutti, ho dei maschietti che tranne l'altezza, che è una cosa che un po' pagano, erano donne e sono diventati bellissimi ragazzi, veramente bellissimi ragazzi, pagando solamente un po' la struttura dell'altezza. ho dei maschi che sono diventati bellissimi ragazzi. La limitazione è sempre quella che fare a livello genitale una femmina è molto più semplice che fare un maschio. D'altra parte la natura, sapete perfettamente, produce femmina. la struttura della natura è produrre femmina, perché per fare un maschio occorrono due varianti. La prima variante è che la X perde una zampa in tattina e dimenti la Y, però è del materiale genito. La seconda variante è che nella vita fetale la persona con la determinazione di XY si è esposta a testosterone. Perché se non è esposta a testosterone nella vita fetale, sia perché non ne riceve dalla madre, sia perché per qualche malattia genetica i suoi recettori, quelli che devono raccomandare il testosterone sono non funzionanti, alla nascita verrà una bellissima bambina con genitali esterni, femminile. Poi, a vedere bene, allora la battina è molto corta, i testicoli saranno all'interno come le ovarie, ma ce ne accorgiamo quando non arrivano i metodi. Oggi gli screening si fanno prima, ovviamente, però la sindola di Morris era la famosa sindola delle donne bellissime senza fili. Ecco, quindi la natura strutturalmente come standard ha a fare femmina. Noi maschi siamo uno sforzo, uno sforzo della natura. Ok? Perché per fare il pene dobbiamo prendere le grandi labbra, chiuderle, abbassare le gonadi a livello. E' la stessa cosa, parla assolutamente a caso poi in chirurgia. Perché togliere il pene salvaguardando la pelle che lo copre e poi introiettare questa pelle all'interno creando uno spazio per fare una vagina. Certo, è un lavoro difficile, dura ore, ma vengono ancora assolutamente vagine e femmine, anche sessualmente assolutamente utilizzabili, passatevi il termine, da un pene. Ok? Mentre fare un pene, purtroppo, se tu togli, passi gli slip a una femmina diventata maschera, quantomeno ti è scoppiata la bomba a mano sotto l'amber, sei passato, ti sei infilato nella tritta carna. Cioè tu hai un penoide, in realtà, si può essere utilizzato, salvaguardiamo il critoride per la sensibilità, però ciò che vediamo a livello genitale è brutto. Mentre il maschio che diventa femminile è brutto. Una situazione perfetta. Anche queste situazioni mi fanno dire molto sul fatto che il maschio comunque sia un'entità complessa. E abbia, secondo me, delle fragilità intrinseche che nella sessualità trovano il suo punto più fragile. E che dalla sessualità escono per diventare aggressività, per diventare lotta, guerra, che nella pratica di oggi si coniuga con stadio e quant'altro. Ma si colloca anche con delle gang, per esempio. Laddove questi maschi, questi gruppi di maschi, cercano di dimostrare qualche cosa che esita. Una volta queste cose vivevano in un'altra tipologia di situazione. Però il maschio ha sempre bisogno di far emergere qualcosa che lo configuri come maschio. C'è qui stesso. Ecco io adesso vi ho fatto un po' un percorso, così abbraccio di ciò che ricordo di più. Ma se avete voi delle domande. Qualcuno di voi ha delle esperienze, delle cose in cui si è trovata magari a disagio, non saper rispondere, non saper gestire questa situazione. Vi sono capitati esempi come quelli che vi ho narrato? Io volevo condividere una cosa. Nel senso che ho fatto grandi educazione all'affettività, nelle quinte e le ventali, fino a due anni fa. E le domande che lei citava sul trans, ma anche delle cose veramente tazzesche. Anche io mi sono trovata a rispondere. Cioè adesso i bambini, queste bambine, le domande quelle provocatorie vengono fuori più da qui. Già il quinte e le ventali. Per cui quando si arriva a farla ai superiori, che ho trovavissimo, ma secondo me è utile farla, ovviamente è mitico. Io rispondevo da psicologa, però è una cosa che mi hanno messo molto in difficoltà. Cioè io poi facevo un po' la scatola con le risposte. Sono andata a studiare i miei ricosti. E il nostro lavoro è così. Perché facevano un po' delle domande anche specifiche. E loro andavano molto anche su. Anche la parte ironica che lei citava all'inizio. È vero che già a quell'età c'è. E ti mettono la prova perché vogliono vedere se c'è finalmente un adulto che queste risposte le dà. E non dimenticare che tu sei una donna che va a parlare. Sì. E c'è un atteggiamento completo. Allora, se vado a parlare io, c'è un atteggiamento divertente che a volte raccolgo. Dipende da che cosa è anche la classe da tenere, no? Perché mi davano due classi. E i primi anni facevamo le terze. Poi siamo subito scesi al secondo. E non è sempre semplicissimo gestire la sicurezza. Però è molto divertente, quando vuoi prendere sull'acceleratore, giocare sul concetto di leader master. Perché loro cercano di capire se tu sei messo lì. Perché sei vecchio. Perché sei una persona che è sata e ha dell'amploso popere. Segnare a loro invece sono schiai, sono spenti, sono pronti. E quindi arrivava che partisse la sfida. E tu ti accorgi subito quando la sfida è sul piano psicologico. Quindi domande. O quando la sfida è sul piano identità maschile. Allora, a volte è corretto anche da parlare. Io a volte raccoglievo questa sfida. Nel modo più semplice. Mi avvicinavo a questa persona e gli dicevo. Tu che adesso in questo momento stai cercando di creare della confusione per i tuoi amici che stanno intacchiando. Se io ti dicessi andiamo fuori e misuriamoci come fanno gli animali. Mi aiutano. E la tua è una sfida tipo come si lancia un capo branco. E' chiaro che in una condizione di questo genere io non posso farlo. Ma tu te la sentiresti di fare a volte con me? E lo guardi dentro. E vedi che di sotto. Fa basta. Anche perché devi avere proprio questa percezione che loro devono... Io sono un po' anche facilitato da un fisiciduroico di una persona che ha fatto... che continua a fare anni di attività fisica. Non ho certo paura di andare a confrontarmi da un punto di vista... Ma lo sentono allora. Cosa che invece da un punto di vista femminile ti possono veramente mettere difficoltà. Perché ti sfidano maschio contro femmina. E credo che questo, parlando con noi, non possa essere un punto di difficoltà. Attenzione che la loro fragilità è proprio nel fatto che non saprebbero cosa fare. Sto convinto con una femmina che è in gamba di loro. A me è successo questa primavera in una classe, prima che si fosse lockdown, che un ragazzino impara la secondaria di un grande età. E lei che posizione preferisce? Allora io continuavo a dire, cosa posso fare? Posso utilizzare questa cosa? Vedi, questa si chiama violenza. Perché tu ti stai approfittando del fatto che sono donne per mettere a disagio, per creare una situazione imbarazzante. E questo è uno di tanti tipi di violenza sulle donne. Mi ha detto che noi, infatti le ragazze, queste capitano, ci mettono a disagio. E lì ho incanzato tutto ogni scorso. Questa ragazzina è diventata. Certo. 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 E' stato un attimo ecco. E' stato solo un attimo di lucidità. Certo. Certo. Devo recuperare. Quando esce nel cap del cilindro il cuore gli idioti. Perché abbiamo decenni di formazione e di pratica. Non crediate. E' come una diagnosi medica. Come diamo nel fatto a fare diagnosi di gravidanza extracubarica. Se ricordo ancora ero in guardia medica. Arriva una telefonata alle sette e mezza della mattina. Noi smontavamo le otto. Padre, ragazzi. Vado, guardo questa persona. Allora, mi permetto di scrivere proprio. Si rimane il pronto soccorso per sospetta gravidanza extracubarica. Non so più niente di questa persona. Due anni dopo dovevo aprire lo studio. Vado a prendermi della mochetta in un negozio. E mi faccio fare la fattura. E vedo l'uomo che mi guarda. Ma lei mi dice. Lei... Esatto. Lei... Lei ha salvato mia moglie. E mi racconta come questa persona sia arrivata in ospedale. E grazie al fatto che c'era scritto. Sospetta gravidanza extracubarica. Non si è fermata in proprio soccorso. E stata mandata in ginecologia. In ginecologia. Il primario ha fatto... Mi conosceva dal Borgoromo in qualche modo. Ha chiesto all'aiuto cos'è questa qua. Ma si adesso... Ma non avete fatto la memografia? Fate la soluzione. Ha una buona conoscenza della prima. Io avevo un po' di sfoglia. Non so. Ma chi è che ti fa venire fuori la diametra? La domanda che vi ho fatto io è tutto bene con le mestruzioni? Si, l'ultimo è stato un po' scarsino. Poteva essere una pedicite. Poteva essere... E' la stessa cosa. Improvvisamente viene fuori questo coniglio che chissà dentro lì quando sei andato a lezione, quando hai sentito, quando hai raccolto. Tutti noi abbiamo tanti conigli che per fortuna ci vengono in aiuto nel momento inaspettato. Però ecco, nel nostro lavoro non c'è nessuna differenza da quella del medico. E io mi ricordo la prima notte di guardia d'assurdo. Appena numerato. 36 denti. Un pulchino. Mi sono il mio direttore. Questo è il segnotto. Mi fa. Paura. Questo è l'assurdo. Questo è l'assurdo. Allora, ti do un consiglio. quando vieni di fronte al paziente fermati sempre un minuto a pensare prima di fare qualsiasi richiesta. Perché dice? Se in quel minuto muore, moriva lo stesso. ma probabilmente se tu ti fermi un minuto a pensare hai più probabilità di risolvere il problema che di salvargli la vita dopo. La volevo dire. Quindi, ecco, il fatto di un attimo e impariamo a guardare queste domande negli occhi intanto facciamo la parola senza fare un passo indietro senza passarli, senza... Loro sentono questo aspetto. E se noi continuiamo a guardare negli occhi sentono tendenzialmente psicologicamente perché comunque noi siamo già su uno scadino educazionale loro ci hanno già messo l'altro. Ci devono sfidare perché comunque siamo già un sacco in anni. Prendiamoci un attimo di tempo e facciamo funzionare ci mettiamo i nostri cunini nel cappello. Ok? Ti faccio vedere alcune cose se non escono le altre domande se non forse un quarto vediamo ancora un po'. Sì. Dovrebbero essercene parecchie perché qualcuno aveva detto che... Allora, forza! Dai! 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 Paola! 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 andare a fare, perché tante volte c'è anche una rassicurazione che sia al 100% organico, perché c'è problema, soluzione, mentre diciamo una cosa più psicologica o mista, come reagisce con il paziente in questo caso? Certamente il maschio ha il terrore che non sia qualcosa di organico, il maschio ti vengono a dire, a volte vengono da soli, altre volte mi sono inviati, devo capire se è qualcosa di fisico o, crediamo di no, psicologico, il maschio accetta che tu gli dica hai un tumore nel testicolo, tu gli dica guarda lei è sana come un pesce, la sua situazione disfunzionale sta in un percorso interiore che ha un'origine emozionale, emotiva. Allora, il primo incontro mi serve per la lettura del progetto, che io eseguo nell'anamnesi in modo dettagliata, quindi dividendomi il mio paziente in quattro aree, l'area somatica, relazionale, la socio-socio di attività e l'area idracinica. In queste quattro riporto anche quella che è il concetto di agenda del paziente, cioè la capacità di ricordarsi che questa è una cosa medica in realtà, nasce dal fatto che avevamo, consideravamo il trattamento disease-centered o patient-centered. Disease-centered vuol dire che io ti prendo, ti faccio una diagnosi, ti do le medicine e curo la terapia. Il patient-centered invece tiene conto del vissuto del paziente sulla sua malattia, che può essere benissimo organica, ma non è mai scevra da alcuni passaggi della persona, che la persona porta con sé proprio come una agenda. Che sono? Come vive questa malattia? Questa malattia in che ambito sociale si manifesta? Che aspettative ha il paziente nei confronti della malattia e del medico? E quindi queste sono cose che noi dobbiamo cercare e vanno relazionate. Visito il paziente fisicamente, quindi dopo aver raccolto un'anamnesi attenta, sia fisica che, vedremo prima di dire la domanda su quanto utilizza l'internet, una domanda fondamentale, le giornate. Si visita il paziente, che cosa vediamo di un maschio. Per noi è importante, per esempio, lo stato di antrogenizzazione, sia nel giovane che anche nel meno giovane, quindi la peluria, l'atrofismo muscolare. Valutiamo lo stato dei fessicoli, sono piccoli, sono normali, sono di consistenza duroelastica o molli. valutiamo l'astra del pene, quindi la dimensione, lo stretching a riposo, vediamo il pene da sottogilande e lo allunghiamo in maniera di capire se ci sono delle placche che lo tengono bloccato o quant'altro. Se a più di 50 anni guardiamo anche la prostata, perché i nervi che contuffono il segnale di direzione passano a fianco della prostata, per cui in prostata particolarmente ingrossate o in infiezioni ingrossate che possono disturbare questo segnale. Il peggio è ovviamente nelle terapie del cancro della prostata, dove quando ti porti via la prostata spesso vai a rovinare questo percorso nervoso, anche se oggi ci sono delle tecniche chirurgiche di nerve sparing, in cui si cerca soprattutto delle persone più giovani o che nell'anamnesi hanno una buona vita sessuale, di salvaguardare questi fasci nerviovascolali che sono attaccati, quindi sono dedicati come ragnatrie, quindi bisogna proprio scollarli piano piano, almeno uno cercare di salvare. Fatto questo, faccio una diagnostica ormonale di base, quindi il dosaggio degli ormoni che sono pro vita sessuale, testosterone in questo caso, contro la vita sessuale che faccio una cosa della prolatina, la prolatina del maschio è un ormone che si alza nello stress e va a disturbare il mondo delle relazioni di alcuni di questi esami. Ovviamente, vado a dire che non è il diabete, quindi chiederò una prolatazione del stato del potuto, del polesterolo, perché la reazione è un fenomeno idraulico sostenuto da due arterie che hanno un diametro di un millimetro, quindi basta che si depositi un po' di colesterolo sull'arteria e è difficile. Fatto questo attendo il paziente al controllo, controllo con cui se è singolo ok, se copia chiedo bene, e a quel punto si posiziona un po' la diagnosi generale. La diagnosi generale, da dove sia francamente organica, richiede il supporto di alcuni farmaci. Il farmaco che ha cambiato effettivamente la terapia, considerate sempre che il farmaco capostipite è stato chiaro, no? Sidenafil, oggi ne abbiamo quattro di quella famiglia, che sono quattro i farmaci, tutti quanti i fratellini, Sidenafil da Darafil, con i loro nomi commerciali e quant'altro. Ma ciò che ha modificato dal punto di vista terapeutico è che questi farmaci hanno un'efficacia intorno all'80%. Ricordatevi però che negli studi, unico caso farmacologico, il controllo in placebo risponde positivamente nel 32% dei casi. Questo ve lo dice Luca su perché i rinoceronti come lì sono senza colma e quant'altro. però, vi dice tantissimo, non esiste in letteratura che io controlli un antibiotico e il non dare l'antibiotico che dia il 30% del successo. Chiaro? Mentre nella fase di generazione, ecco, negli studi ci dicono che il 30% dei soggetti rispondono da certo. Questo per dirla lunga sul... ma ci sta, d'altra parte. Ciò che spiego ai ragazzi più giovani, che sono quelli che ormai stanno diventando veramente una costante, nel mio studio di metodologia, è il concetto di tono iperadrenergico. L'adrenalina è qualche cosa che va fisicamente in questo certo di essere un ponte tra la paura dello psicologico e il piacere dell'organico, se possiamo passarlo, col fatto che l'ansia, la pressione, in realtà il nostro corpo la traduce con la produzione di adrenalina. E chiedo, sapete cos'è l'adrenalina? Sì, è quell'ormone. Ma l'adrenalina è qualcosa che noi abbiamo ancora da quando non eravamo un certo homo, da quando eravamo mammiferi, ed è un adattamento di fronte a una condizione di pericolo, nella quale noi siamo chiamati a fare solo due cose, attacco e fuga. Quindi l'adrenalina è qualcosa che ci metti in condizione di salvare la pete. Come? Attraverso una scarica che va a colpire parecchi cose. Per esempio, quando lei è con la sua, con il suo partner, come si sente fisicamente? Ah, diciamo, non ho il cuore che mi salta fuori. Questo serve perché se invece il suo partner lei avessi un avanti, hai sul busco e gli arriverebbe più sangue. E poi? Dice, poi l'ultima volta mi sembra sudare a lei per l'avversario. Certo, perché se lei non l'avesse vestiti, come i lottatori si ungevano, il sudore la renderebbe viscida alla presa dell'avversario. E poi ha detto, sa cosa c'è ancora? Che diventa valido. Sì, è vero, il mio compagno mi dice che sono bianco come... E dico, e l'adrenalina sa cosa fa? È un vasocostruttore della superficie. Così. L'adrenalina va a chiudere tutta la circolazione superficiale. Perché? Se sto lottando con il leone che mi taglia qui, se io perdo sangue mi debolisco. Quindi, di fronte in questa situazione, il sangue viene spostato dalla superficie del corpo e dalla periferia all'interno della posizione più protetta possibile. Bene, dov'è? Dentro o fuori? Lei dico, si vede scappare col veneretto in mezzo all'assalato? Quindi l'adrenalina porta dal via. Cosa gli ho appena spiegato? Che per avere un'erezione bisogna quadruplicarla a portarla del sangue al pene. Normalmente il pene che noi chiamiamo a riposo ha invece la contrattura e la costruzione di tutta la parte circolazione. Nel pene a riposo circolano 40 millilitri di sangue. Tanto è vero che la natura, se data da fare, è al maschio dalle erezioni noture. Il maschio ha due erezioni. Quella sessualmente migliata del desiderio è quella della notte, che parte da un'altra area del sangue. A noi serve, perché se ho un paziente che mi dice, ho delle bellissime lezioni quando mi sveglio al mattino, e poi mi dice, non ho mai una lezione quando sono con mio partner, avrò sicuramente qualcosa di organico, io rispondo, difficile. Perché il passaggio, che parte da due parti differenti del cervello, si unisce immediatamente, lungo il midollo spinale, fino al centro della reazione, viene mandato il segnale lungo il nardo adattivo, raggiunge i corpi cavernosi e apre il flusso di sangue. Se quello funziona, non si capisce perché, è come dire, se prego con la mano destra, si accende la luce, se prego con la mano sinistra, no. C'è qualche cosa che non va nel modo di prendere, non nel pulsante, non nella luce. L'erezione notturna serve a nutrire, a ossigenare i corpi cavernosi e i peni. La notturna non si fida delle attività sessuali. Da neonati fino alla morte, se stiamo bene, noi, durante la fase REM del sono, abbiamo un'erezione. Tre, quattro e crescita. Se abbiamo un buon sonno, se dormiamo bene. Questa è un'altra cosa importante da sapere. E quindi, ecco perché spiego che l'ipertono adrenergico crea una condizione fisica per la quale è impossibile avere la reazione. E' molto importante che lui arrivi a seguire questo concetto, perché allora ti dice, sì dottore, mi succede proprio così, ha proprio ragione. E già in questa situazione noi siamo in grado di fare qualcosa di terapeutico, che non è solo la rassicurazione, ma è il farlo girare su un altro percorso. Tirarlo fuori dalle sue recuperazioni, che lo stavano di fatto soffocando perché ogni volta che metteva in atto un comportamento per ovviare questa situazione, gli si ritorceva contro. Bellissimo. Dice, ah dottore, devo concentrarmi tantissimo per tenere la mia lezione. Interessante. Dico, ma su cosa si concentra? E dico, mi concentro sul mio pene, sono lì che lo guardo. Ma scusi, quando andava tutto bene? Aveva presente il suo pene sempre? No? Dice, cosa guardavo? Dice, guardavo le tezze di mia moglie, guardavo... Com'è che adesso che si concentra sul pene non va più bene? Forse in qualche caso pensare che tutta questa concentrazione impedisce invece da attivarsi qualche cosa bierocchia. Prima di queste cose, ma la vero dottore? Ma dice, sa che è vero, quando mia moglie mi bacia, per esempio, e... Anzi, questa è un'altra domanda che sarebbe interessante fare a tutti i vostri clienti. Dice, a volte ci baciamo e ho delle lezioni bellissime. Poi quando mi cavo giù e guardo se sei su, va giù. E provi a continuare a guardare le tecniche sono... E si concentri su quelle, se vuoi. Tutte queste cose che in realtà denotano una condizione di fatica e dei comportamenti che in realtà sono disadattativi. Se tu glieli svolgi e lui comincia a prendere la cosa da un altro punto di vista, hai già fatto tantissimo per la parte causa. mi piace la mia moglie, ma... Sicuramente, non so... Anche tutto... Scusi, quando ho baciato l'ultima volta sua moglie e sua nuova? Quando ho provato l'ultima volta a fare la morale, l'altra sera? Non ti sembra strana? Quindi vuol dire che l'altra sera, lei ha provato con la mano rosa muovendo, ma non l'ha baciata. E' un autista, non hai vent'anni, siamo insieme. Spessissimo, il maschio... Anche tutto... Non si ricorda di cui ho fatto l'ultimo bacio. Mentre si ricorda perfettamente come non è andato bene l'ultimo rapporto. Sono piccoli aspetti per dirvi come il maschio a volte è molto concentrato. A volte gli faccio un piccolo disegno e metto una pila. Dico, vedete, questo è il triangolino. Noi maschili siamo concentrati su vertice. Questa pila è detto. Penetrazione. In realtà dico, questa pila è sostituita dalla pila di piacere. Che è poi la base del nostro lavoro, in cui cominciamo dalla caratteristica esigente e riscopriamo il piacere corporeo inteso insensuale, no? Anch'io a volte utilizzo il concetto di proibire l'attività di penetrazione. Anche quando comincio a dare la caratteristica. E molte volte uso il farmaco anche nel soggetto giovane. Francamente psicogeno. Dove l'ansia di prestazione è davvero diventata non governabile, il farmaco rappresenta una buona scelta perché il paziente ha già gerato tanto, non sopporterebbe di essere inviato a una terapia masionale o sessuologica o psicoterapeutica che gli è prospettata dalla sua esperienza inconscia da ciò che pensano qualcosa di lunghissimo e lui non ha tempo. Non ha tempo perché magari la ragazza ha detto ti lascia. Curati perché io vado via. E quindi la possibilità di intervenire attraverso un counseling specifico in seduta e l'utilizzo di un farmaco, ma che non sia in questi casi un farmaco a contemane. Quando noi parliamo del farmaco, noi abbiamo due modalità di erogare il farmaco. Il farmaco in forma on demand, cioè mirato al rapporto sessuale. Cosa vuol dire? Non è che ti guardi, metti in bocca la pastiglietta e abbiamo un rapporto. Certo, i più anni sono farmaci che tendenzialmente sviluppano la loro attività secondo questo arco di modalità. Assumo il farmaco, dopo circa mezz'ora, parla un'ora, dipende dal farmaco chiaro le proprie caratteristiche che il farmaco è arrivato nel pene e nel pene staziona per, anche qui dipende dal tipo di farmaco, da 4 a 48 ore. Quando al pene arriva il segnale dal cervello, il farmaco aumenta, in realtà impedendo la distruzione di una sostanza, aumenta la capacità di mantenere. E' utile il farmaco con il manciato, è molto utile. Nel settantenne, che ha un rapporto ogni 10 giorni con la moglie e dà una vita, e che ha un problema vascolare importante, e che in realtà ha una programmazione che è un modo di stare insieme. Ci conosciamo, capiamo che stasera può essere la salata giusta e mi prendo anche un farmaco al bisogno. Magari prende già anche tantissimi altri farmaci. e anche qui è stato enfatizzato il concetto Dio devo prendere il farmaco per poi farla da una. Sì, in qualche modo ci va una qualche programmazione. Non è che devo prendere il farmaco dopo 3 minuti e andiamo niente. Abbiamo 8 ore di tempo per esempio, no? E poi chiedo sempre questi caratteristiche Ma scusate, mi fa l'elenco degli ultimi rapporti che avete provato? Caledaria è una manca e mi sta dicendo che sono 7 sabati. E non è programmabile. Perché bisogna smontare anche certe convinzioni. Ah no, così è programmato. E allora non è una parte delle persone al programma. Perché è sabato non fuori fine. Io lavoro, tu lavori, eccetera. La domenica mattina siamo i più tranquilli. E va bene, diciamo che il programmato ha una sua terra. Con il giovane in particolare, dove esiste l'ansia di prestazione. Se tu gli dai il programmato, sai cosa fa lui? Beh, sì questo mi aiuta. Però sono veramente un altro farmaco perché devo prendersi anche il farmaco. Sono un potente. Non cade più fuori. Diventa dipendente dal farmaco. Questi sono i pazienti che vanno trattati col farmaco quotidiano. Né più né meno come diamo il farmaco della persona. Per il diabete. Si dà un farmaco tutti i giorni. La mattina. Quindi ben distante dalla vita sessuale. Questo farmaco rappresenta un continuum. Che permette al paziente di avvicinarsi alla sessualità. La prima cosciente che ha preso un farmaco. E poi sempre meno cosciente che c'è il farmaco che agisce. E gli riporta una certa forma di sicurezza. A questo punto io gli scalo il farmaco 51 anno magari. Gli dico bene adesso prendo i giorni pari una pastiglia e i giorni dispari mezza. E facciamo tre mesi. Tre mesi da rivedere. Come andate? Ah bene. Bene. Adesso facciamo mezzo tutti i giorni. Parate tre mesi. Ma vabbè. Ah. Adesso facciamo mezzo giorni interno. Gli spiego come il concetto di andare in bicicletta. Quando cominci ad andare in bicicletta ti metti come le guottine. E quando ti senti sicuro. In questo modo io riesco a dare sia la libertà di vivere una sessualità. E più la gente è giovane più non ha tempi, modi e quant'altro. La completa disponibilità alla sessualità. sia lo sgancio dal concetto di farmaco come unica possibilità per superare la sua situazione. E piano piano riesce a recuperare il 100% di questi pazienti se dietro non ci sono altre problematiche importanti. E' molto importante. E' molto importante. Questi farmaci come sono visti dalle donne. Voi come prendereste il fatto di vostro compagno per avere una buona lezione di riuscire a farlo? Per quello che ci eravamo detti prima non bene. Certo, per quel motivo. La risposta è sempre sottofondo ma io gliela chiedo fuori prima. Non pensi signora che il suo compagno funzioni perché ha preso un farmaco e che quindi funzionerebbe anche con la sua amica e con la vicina piena rotola adesso. Perché il farmaco necessita dell'attivazione della testa? E vedi signora, se lei non mi attirasse io potrei prendere una scapola di questo farmaco, non avrei mai una lezione. Ecco, queste sono cose importanti da dirne da. Dire che è sempre lei e la sua femminilità che dà origine alle lezioni. Il farmaco serve solo a sostenere il segnale finale. E' vero adesso. In quella situazione. Non è toccata. Ed è proprio via. E' proprio così. Cioè io forse prendere una scapola in terra di farlo come se vado ad una donna che non mi interessa, non mi attrae, non mi piace. Vero è che va anche spiegato che ci sono dei soggetti che hanno un livello di ansia così esorbitante che non rispondono al farmaco. Ma non rispondono neanche al livello massimale della terapia medica che è iniettare direttamente le pene con un ago molto sottile, un vasodilatatore che esclude completamente in questo caso l'attività del cervello. Cioè io bypasso il segnale e lo porto direttamente nel cervello. Bene? Se i livelli di energia ci sono alti, neanche questo funziona. Altre domande? Poi ci siamo arrivati quasi in fondo qua. Ascolteremo per ore. Voi ragazzi hanno un po' questa convinzione invece che il diagra è la mia situazione tra il diagra? Adesso per le prossime 8 ore? Allora, non serviscono ragazzi. Vado per la strada? Non solo ragazzi. Allora, in qualche modo il concetto è il desiderio, no? Congressi vari nelle varie parti del mondo. Voi sapete che solo in Italia la prostituzione è illegale. Ok? Per esempio in Berlino. In Berlino loro hanno delle amplissime aree come noi abbiamo le aree di ricreazione sport che sono andato anch'io a vedere come funziona l'ambiente ovviamente. Praticamente tu entri, ti danno un accappatoio, paghi l'ingresso e all'interno tu hai qualunque cosa. Puoi andare fuori in piscina, hai il solario, hai la sauna, hai il settore massaggi, hai il ristorante bar, hai il cinema che hai, queste donne, un 3-6 minuti che girano, ti fanno da noi. Se vuoi un rapporto devi pagare una somma a parte e l'altro contestante. I miei colleghi, prima di andare, alle farmaci su farmaci, ma perché funzionarono? Per due motivi. Uno, perché arrivavano a quel desiderio intrinseco, non della singola persona in quel caso, ma erano già infanciti del desiderio di non fare brutta figura fra l'altro, no? Perché lo sapevano perfettamente che io vado ad una persona che non conosco, che è il massimo del rischio che vuoi porre, perché vado per fare quello. è la stessa cosa per la quale è divertente spiegare che si può tradire il partner, ma quando viene funzionando il partner, perché vai a farlo sotto stress. Se invece non funziona il tuo partner, andare a vedere se con un'altra funziona, è quanto di più distruttivo, perché non funzionerà, e tu avrai la certezza di essere finito come massimo. Quindi il concetto era questo, lo assumevano questo farmaco per dire dunque vado in una certa dimensione. Quindi c'era una dimensione di struttura che lanciavano, ma laddove non c'è un segnale positivo, il farmaco non funziona. Non c'è niente a fare. Altra problematica. Oggi non esiste più corteggiamento. Entriamo in un altro aspetto. Se oggi fossi un ragazzo, ahimè, perché ai nostri tipi non eravamo, ma oggi mi sentirei profondamente a disagio, perché sceglievo io il modo e il tempo di corteggiare una persona, e mi avvicinavo, ci provavo, ci facevo, ma secondo i miei tempi mi preparavo psicologicamente e mettevo la mano sul ginocchio e al cinema provavo a infilare, ma era tutto un percorso che io mi costruivo all'interno per prepararmi a questo. Oggi, signori, alla mia rispettabilità, ho più donne di trent'anni che mi corrono dietro e che ti incantonano tecnicamente. E quindi, ma i ragazzi te lo raccontano. Il diavolo fa quando andare in un posto e quella dice dai andiamo in bagno. E l'altro non è né preparato né pronto né abbiamo questa possibilità. Se non siamo noi a scegliere i tempi ma ci viene imposta, scatta un'ansia di prestazione. Folle. Perché? Come ti prendono in giro i tuoi amici? Cosa hai fatto? Come non ci vai? Io anche no, sai, guardate, sono un po' in ansia. Che uomo sei. Te la dà. Capite? Oggi la donna è diventata assolutamente aggressiva nel senso buono nella sessualità. Partendo da una genitalità che lei controlla benissimo e che però si capisce una difficoltà orgasmica anche nelle giovani, parte alla ricerca. ti punta e ti porta via. E se tu non sei in altezza, sapete cosa c'è oggi? Lo sputanamento via internet. Giovannino non ha funzionato. Federico ce l'ha più fuori. I ragazzi sono in una situazione di estrema attenzione a oggi verso l'uomo. Di estrema insicurezza. Tutta questa liquidità, tutta questa insicurezza. Il mondo femminile giustamente ha preso i suoi spazi ma si sta comportando come il mondo maschile ma il modo maschile di approcciarsi serviva anche a prepararsi, a caricarsi. E' un po' come prima della partita quando si vede tutto. Era il modo con cui il maschio si dava un tempo di avvicinamento alla donna. Corteggiamento. Ma serviva il maschio. Perché la donna non sapeva che serviva il maschio. Lasciava quel tempo. Tanto si diceva di sì. Lo sopevo già si diceva di sì. No. Non è certo perché io continuavo a dire dai, per piacere. Allora. Forza. Magari. Dieci centimetri. Quattro centimetri. Tre centimetri. No. Posso spostarlo così. Però era questo. Ti lasciavano il tempo di sedimentare l'ansia. Oggi non c'è questo vaso di contenimento dell'ansia. Tutto subito e devi essere capace. Perché oggi si vuole il maschio abile. La donna si aspetta che il maschio sia abile. Da subito. Come diavolo fa ad essere abile o morito? Quanti maschi della nostra generazione hanno avuto la donna a scuola? La ragazza più grande. La donna più adulta. Che ti ha portato serenamente all'interno di me. Oggi. È impossibile. Io per cui ho un rapporto solo. Ho avuto 18 anni con una ragazza di 28. Perché ha avuto molto senso matare. Ma io ve le dico sempre. Perché da lì in avanti io mi sono mosso con tranquillità. Per tutta una serie di cose. Ma mi ha lasciato una tranquillità verso il mondo femminile. Che è una rilassatezza. Ma oggi c'è un po' come diavolo di fare. Devi essere abile. Bravo. Bello. Se non mi fai raggiungere l'orgasmo. Ti metto subito su internet. Vale niente. Se non sei fisicato o palestrato. Se non hai qualche tatuaggio. Qualche tatuaggio. Un piercing magari. Capite come per essere maschio oggi. Nella fase di adolescenza. È faticosissimo. Il maschio sta battendo un ritirato. È un po' di colpa. C'è la fase società. Laddove il maschio padre è sparito dalla direzione del figlio padre. Laddove la parola maccio è diventata qualcosa di terrorificante e negativo. Chi proteggerà tra virgolette? Chi vi darà la sensazione che avete bisogno di essere contenti? Anzi, probabilmente per tutta la vita siete voi i proteggerti. Ma la sensazione di qualcuno che vi faccia sentire protetto in caso di necessità. C'è un bellissimo libro in francese. che dice che oggi il maschio perfetto è depilato. Profumato. Se possibile abbronzato. Con cremine di bellezza. Cioè il maschio perfetto è una perfetta donna. L'educazione maschile è passata attraverso il valio femminile. Ma è così. È capitato alla donna. La donna insegna a essere donna. Non può insegnare un maschio a fare maschio. Infatti, se vedete, c'è anche un'altra problematica. Guardate la differenza nelle classiche che ci sono degli extracomunitari di vario tipo. E i maschi extracomunitari, lo chiediamo. è una parte che ha un ruolo maschile definito. Un'identità maschile molto più definita dei nostri. I nostri devono fare gruppo. Loro sono spesso singoli e diventano liberi. Io, infatti, con il libro pienamente lavoro molto con la coppia e mi accordo proprio di questo. che gli uomini sono molto più sottomesti di quello che sembra. Gli uomini sono tanto sottomesti per la paura anche dell'abbandono. Quindi si ritrova lo stesso a dover fare quello che la compagna vuole per il timore di essere abbandonati. E questo si vede tantissimo anche nella relazione in ultima sessuale, dove manca molto, a mio avviso, proprio quello che forgo, quelle intimità che dicevo prima, i baci, le carecce, il concetto, per esempio, del profumo della pelle, tutte cose che inibiscono se non sono valorizzate la relazione. E quindi porta a una frustrazione importantissima. Assolutamente. Quindi anche nella soddisfazione dei bisogni, se quello che è, gli uomini adesso si stanno tanto avvicinando al mondo femminile che sia uno tra le donne e il maschio, e adesso il maschio sta salendo nella fase depressiva di maniera importante, o ahimè, in tutte quelle cose che si chiamano violenza sulla donna, ma che spesso andrebbero indagate sul fatto che uno è arrivato a livello. Il maschio non ha la dialettica della donna, se tu lo metti nell'angolo, geneticamente il maschio può reagire con l'unico modo che geneticamente conosce strutturalmente, che è la più... cioè io uso la forza, non ho il tuo cervello, non ho la tua capacità dialettica, perché se tu continui a... ma no, è meglio poi scusare ovviamente questa situazione. Però il maschio ha una fragilità intrinseca. Se tu lo blocchi in una certa situazione, a un certo momento, esce la rabbia. Perché non si sa fare altro, va prevenuta. Tutti fanno le felicità. Invece va prevenuto, va prevenuto attraverso questo lavoro di educazione. Va prevenuto spiegandole domande. Il maschio, il poerino, fa tanta fatica a esprimere le sue emozioni, i suoi sentimenti, e i suoi sentimenti. Quando poi il vaso è troppo pieno? Poco mi pare che siamo. Per fortuna troppo. Però, per fortuna, stiamo avendo un incremento deciso di defressione. Anche le ragazze. Che poi diventa defressione anche nel mondo femminile, perché le ragazze non si sentono viste, devono fare tutto, vogliono essere bellissime e non solo guardarmi. Ma certo, perché è un modello. Adesso anche il mondo femminile ha un modello. Terrificante. Perché nel mondo maschile avevamo muscoli. Ma guardate che il mondo femminile ha di quei modelli che secondo me sono distruttivi, però. Altabella. Giovane, che vuol dire? Giovane per me, la donna giovane ha anche 50 anni da un punto di vista oggi. Certo. Sì. Confrontati tu con una di vent'anni. Ho chiamato. Confrontati con una di vent'anni. E non restarti. Confrontati con una di vent'anni. Cioè, hai capito dov'è il problema? Beh, c'era rincorsa a quel modello. Io ho avuto in terapia, non terapia, ma terapia almeno, alcune situazioni laddove la donna mai, per esempio, ha accettato che il maschio abbia male di partner, laddove anche per anni, negando le attività sessuali, gli ha detto trova fermato dai per far senso. Lasciami stare. Quando questo capita, è la fine di un disastro. Una rabbia e una cattiveria, in cui solamente il mio ruolo medico, il camice bianco, mi ha permesso di guardare la signora, scusami, ma mi è stata ricordata questa frase. E per anni, negando l'attività sessuale del suo compagno, ha detto, vai a cercare un'altra e lasciami stare perché non mi interessi più. Ha detto così sì o no? Sì, ho detto così, ma l'ho detto per me. Ad esempio, lui l'ha detto, lo sai? Quindi dico, non solo dalla parte l'uno dell'altro, ma semplicemente, parola in mente, parola a forza di dirlo. Mi ha messo questo perché adesso lei ha arrabbiato, scusami. Le ha obbedito. Mentre, mentre dall'altra parte, sapete cosa ho visto già? Più di qualche uomo messo di fronte a questo dato. Io ti amo, però mi sono innamorata anche di un'altra. Io non voglio perderti, ma non voglio perderti niente. Sono corretta e te lo voglio teori qua. Però se proprio, proprio, proprio devo scegliere, vado via con lui. Io ho visto parecchio una parola, però ho visto uomini accettare questa situazione e convivere con questa situazione a fronte di una modalità anche elegante del trattare una donna, di solito è abbastanza elegante. Ma non ho mai visto una donna accettare questo, saremmo in una situazione di grave interesse soggettivo, personale, ma non perché l'abbia accettato per non perdere l'occhio. Ah. Prego. Non potrò complicare quest'alora. Allora, io vorrei ringraziare... Grazie. A nome dell'equip e di tutti i nostri ospiti che hanno partecipato a questa serata, mi spiace, l'interroga perché come immaginavo avrebbe condotto una serata... Ah no, è stata una serata di dialogo più avanti. Mi fa molto piacere soprattutto la sua concretezza, perché noi ci tendiamo spesso a divagare. C'è un dottor Puglielo che ci abbia dato tanti stimoli molto concreti, una visione diversa che quella del medico, e ci aiuta tantissimo a integrare la vostra preparazione. Sì. Se ci saranno altre occasioni, spero che possiamo sempre rispondere. Magari in mezzo raccogliete proprio qualcosa di specifico su cui potremmo anche confrontare, no? Alcune cose magari da affrontare in cui magari tu dai una lettura e io posso dare un'altra lettura. Anche per creare una congregenza, ma al destra e al sinistra si devono sempre aiutare da dove è possibile. E i nostri pazienti con un corretto invio, con una corretta relazione. E se no, accade sempre questo. Oh, farò una città, una roba bruttissima. Ah, psicoterapeuta. Perché poi, bellissimo il modo di invio di tanti miei colleghi. Guardi, io non ho trovato niente, proviamo con una psicoterapeuta. Guardi, io penso che il suo problema sia di origine psichica. Deve andare alla psicoterapeuta. L'assicurante. Oppure, conosco uno psicoterapeuta che per la sua situazione che è così incasinata... Questi invii vi mettono in una condizione invivibile, non vivibile. Questo è un problema nostro, lo affronto io, mi entro a lei. Un invio corretto, non si parte. Va bene, grazie.